Sopraluogo istituzionale del sindaco metropolitano Nardella Cerreto Guidi, accompagnato dai responsabili della protezione civile, della viabilità e della polizia provinciale della città metropolitana di Firenze. Qui incontrato i rappresentanti istituzionali col sindaco Simona Rossetti, sindaci di Fucecchio Alessio Spinelli e di Montelupo Paolo Masetti, l'assessore alla protezione civile del comune di Empoli Massimo Marconcini e il vice sindaco Giuntini di Capraia e Limite, con i quali si è poi recato nella frazione di Stabbia devastata dal maltempo. Nel coordinamento sono state prese in esame le priorità per gli interventi di ricostruzione e di sostegno alla popolazione. Successivamente la delegazione si è recata a Fucecchio, dove si è verificata, tra l'altro, un'esondazione. Nelle zone di Stabbia, Cerreto Guidi e Fucecchio, si è recato in visita istituzionale anche il presidente della regione, Eugenio Gianni, nominato dal governo, commissario delegato per l'emergenza dovuta alle alluvioni in regione.